Musica Ciao, sono Flavio, vengo da Ferrara, faccio il Penchexillat da sei anni Io sono Giorgio Bersagnetti, vengo da Tresigarlo in provincia di Ferrara Sei anni che ho studiato il Penchexillat e tre che studio qui con il Master English Bachelor Che cosa ne pensi del corso di formazione che stai seguendo? Il corso è molto interessante perché parla di vari aspetti dai fondamentali che ci sono nel Penchexillat fino a portarti a praticare il vero Penchexillat È molto differente da quello che si vede nel resto d'Italia Bellissimo, c'è una ramagna di roba da imparare ed è bello, è bello E anche dal punto di vista più umano, come ti trovi con i tuoi compagni? Con i compagni mi trovo bene anche perché è un ottimo posto dove trovare degli amici Dove condividere la stessa passione e comunque imparare anche cose nuove E quindi evolversi, crescere È ancora più bello perché comunque ci si ride, ci si scherza assieme e ci ha fatto gruppo E intanto ci fa fatica e ci si piglia a battere Dal punto di vista proprio del programma Ah, il programma è molto tecnico, vastissimo C'è un'infinità di leve, tecniche, movimenti, danze, percussioni C'è proprio di tutto, è completissimo, non so quanti corsi così ci siano Cosa ne pensi dell'insegnante, del maestro? Beh Denis secondo me ci mette il cuore in quello che fa e quindi ti porta dentro all'anima del Silat Piano piano e penso che sia molto molto interessante Chi vuole fare pensa al Silat per davvero Grazie a tutti